Barano va avanti a tappe serrate per il discorso della metanizzazione. Sindaco Gaudiuso, quali sono i prossimi step, i prossimi appuntamenti? Noi abbiamo chiuso l'accordo definitivo con Italgas. Il 18 settembre inizieremo i lavori nelle strade secondarie e poi dal 3 novembre dovrebbero iniziare dai pilastri sulla strada al SS270 a salire fino a Buonopane. Quindi noi siamo soddisfatti di come sta procedendo il tutto e abbiamo avuto garanzianze, abbiamo sottoscritto il tutto, questo accordo con Italgas e a breve inizieremo e quindi ci sarà la metanizzazione. Tutta una serie di vantaggi per il Comune e per i cittadini di Barano. Tempi di realizzazione sindaco, almeno quelli stimati, ovviamente salvo imprevisti? Stimati sono tre anni, poi è chiaro, mi auguro che non ci saranno intoppi ma l'importante è partire per poi piano piano realizzare tutta la rete. Lavori che saranno eseguiti sulla rete stradale, quindi i cittadini saranno costretti a qualche disagio ma comunque è comprensibile visto poi il risultato positivo che si avrà quando sarà acceso il gas. Io penso che per i vantaggi che si avranno i cittadini un po' di problemi li possono pure sopportare anche se i cittadini di Barano da tempo aspettavano la metanizzazione quindi non penso ci saranno difficoltà sotto questo aspetto con tutti.